Eip, ad agosto! L'ho detto perché tanto tutti quanti guardano il video solo per sapere quello. Ho appena finito di assistere a Tarkov TV, ho riassuntoni di tutte le cose di cui dobbiamo parlare e la cosa importante che vi devo dire è che il wipe sarà in agosto. Non sappiamo se all'inizio, non sappiamo se alla fine, accendiamo la chat così il pubblico può salutare, quindi non sappiamo effettivamente quando, ma il wipe sarà in agosto. Dunque, cosa hanno aggiunto rispetto a quello che già vi ho detto ieri? Punto primo, l'update a Unity non è stato fatto a causa di un problema tecnico che lo ha impedito. Tuttavia, questo problema tecnico è già stato risolto e quindi l'upgrade a Unity non dovrebbe farsi aspettare troppissimo. Ci credo poco, ma dicono che non dovrebbe farsi aspettare troppissimo. Va bene, ok. Aggiungono torce negli elmetti, armi come la K12, l'SVT che sarebbe un Mosin in full auto, la VT, scusate Mosin in full auto, la doppietta del papà di Risi, rifanno le... Insomma, aggiungono cose che ci interessa secondo me relativamente poco. Nuova interfaccia per gestire meglio l'Hideout, il proprio Stash, i trader, quindi sarà una nuova interfaccia che raggruppa tutta quanta la roba che uno deve fare su Tarko. Quindi, ad esempio, invece di avere la schermata Trading con tutti i trader, cliccare e vedere la vendita di un solo trader, qua in alto si avranno le thumbnail di tutti i trader e sarà possibile switcharli senza cambiare schermata. Questo è carino, è semplicemente un miglioramento della qualità della vita che piacere ne fa parecchio. Fatemi fare le croci sulle cose che vi ho già detto, così almeno non le ripeto. Allora, 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 tra le novità di interfaccia e di utilizzo ci sono anche piccole comodità durante il ride. Ad esempio, sarà... Simone, grazie mille dell'abbonamento regalato. Sarà possibile scegliere quale parte del corpo curare direttamente dall'interfaccia di gioco. Esattamente come quando durante un ride premiamo R e trasciniamo la rotella per scegliere quale caricatore utilizzare, vi faccio immediatamente un esempio alla velocità della luce, portate pazienza. Tac, 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 perfetto. Quindi con la stessa meccanica con cui è possibile fare... Questo lavoro qua, quindi con R e la rotella del mouse, sarà possibile premere il tasto delle cure e selezionare la parte del corpo che si vuole curare. È un sistema che sicuramente fa comoda, ma che io non approvo. Secondo me era molto più efficace, grazie a te lì dei 5 abbonamenti regalati. Era molto più facile un sistema radiale. Quindi io mi immagino un qualcosa, infatti questo lo suggerirò immediatamente a Battlestate, non appena finisco questo video. Invece di una cosa dove devo scrollare e fermarmi sul punto giusto, molto meglio un menu radiale che parte dal centro dello schermo, così che io in un gesto riesco subito a dire che cosa devo curare. So già dov'è la zona che devo curare, senza aver bisogno di andare a trascinare. Doppio click, me lo ricorda Breghi, ma lo stavo per dire, per i consumabili. Non sarà più necessario fare click destro e poi utilizza, ma semplicemente un doppio click per utilizzarli. Tra le altre cose è possibile adesso swappare più rapidamente l'arma. Quindi la secondaria, io ho il mio M4 in mano, passo alla pistola, adesso fa un passaggio lento. Con il nuovo wipe ci sarà un modo lento e un modo di emergenza, di passare all'arma, che sarà molto più rapido, ma istintivo, e quindi l'arma poi oscillerà leggermente. Quindi con un cambio normale abbiamo precisione, calma, impugnatura corretta. Cambio rapido invece più, insomma, col pepe in quel posto, e quindi la pistola sarà un po' più imprecisa, ma immediatamente disponibile, quindi perfetta per quando rimaniamo senza colpi con il caricatore. Verrà espansa Streets of Tarkov, ok, questo va bene, anche se ho le mie paure, perché comunque Streets è già una mappa che gira parecchio male, con quello che è stato l'update recente. Sicuramente qualche miglioramento di performance lo faranno con il wipe, però, 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 andiamo ad aumentare il carico di lavoro su una mappa che già adesso non brilla per quanto riguarda la gestione del carico. Quindi io ho un po' paura. Comunque aggiungono una nuova area di Streets of Tarkov. Le armi, ve l'ho dette, aggiungono tante nuove armi, tra cui la PKM a nastro. Tutto bello, ma onestamente mi emozionano poco le armi nuove, perché comunque contenuto, ok, va bene, fino a un certo punto. Ci sarà il pulsantino per vendere tutta la roba degli scav di colpo, va bene, va bene, va bene. Update dell'hideout, ingrandimenti, cose che secondo me non ci toccano più di tanto. Poi, parliamo adesso delle cose importanti. Per quanto riguarda il futuro di Tarkov, non si prevede più l'open world. Nikita ha fatto una battuta dicendo l'open world lo trovate su Skyrim, che però mi fa capire che l'open world probabilmente non sarà più una cosa che arriverà. Non ci sarà la killcam su Tarkov, ma sì su Arena. Quindi per una scelta proprio di gameplay, quindi non è un motivo tecnico, non è un motivo di non sono capace, eccetera. Vogliono togliere la killcam, non ci sarà la killcam su Tarkov, ci sarà la killcam solo su Arena. In futuro potrebbe arrivare anche il 50 BMG, va bene, tutto bello, ok. Pianificato un sistema di prestigio per un futuro dove non ci saranno più wipe e si prevede l'open beta di Arena questo autunno, quindi non mi aspetto Arena ad agosto. Tuttavia è anche giusto dirvi che è il secondo autunno di fila che sentiamo dire che Arena la proviamo in autunno. Quindi alzo le mani, anche se chiaramente adesso si tratta di un prodotto ben più finito di quando l'avevano appena accennato l'anno scorso, quindi forse questa volta un pochino ci credo di più. Poi, nel prossimo wipe probabilmente ci sarà un nuovo container e un'ultima cosa che voglio dirvi prima di passare alla roadmap è il fatto che negli eventi di pre-wipe di quest'anno, quindi imminenti, arriveranno veramente a breve, sarà presente una questline che qualora completata dovrebbe darci dei premi che a quanto devo pare sono veramente, veramente interessanti. Tra i premi interessanti, per esempio, c'è questa piccola novità di Escape Front Arco ovvero la leaderboard che prevede diversi parametri per guardare questa leaderboard che come vedete è appena esplosa perché tutti quanti la stanno guardando ma ci sono diversi statistiche di gioco che mettono i player a confronto fra di loro. La leaderboard è attiva fino al 31 di agosto, proprio perché Nikita ha detto il wipe è agosto ma non sappiamo quando, quindi è attiva per tutto il mese e che cosa si vince a rimanere nella leaderboard allora? Mi rendo conto che questo può interessare veramente a pochi perché essere i primi della leaderboard è dura ma chi ha il pregio di essere in alto nella leaderboard potrà scegliere di aggiungere ascoltate bene, due file di slot nel proprio stash per sempre. Per sempre significa anche quando wipano, anche quando lasciano il gioco e tutto quanto lo stash avrà due righe in più per ogni premio della leaderboard raggiunto. Questa è solo la prima di tante leaderboard quindi in futuro io mi aspetto altri premi di questo tipo che hanno un impatto notevole permanente su quello che è il nostro gioco. Poi ve la faccio vedere sullo splendido Microsoft Paint questa è la nuova roadmap, attenzione è preliminare perché si sa non è una roadmap se non la cambi domani ed ecco qui che abbiamo tutta la lista di novità che abbiamo per il wipe di adesso, di agosto e tutte le cose che invece verranno poi implementate più avanti. Io personalmente, visto che non voglio fare il video troppo lungo e voglio andare dritto al sodo non vi parlo delle cose che saranno presenti più avanti vi parlo di quello che arriva adesso. Preset per i loadout Loot nei container random quindi non sarà più possibile fare proprio delle loot run ma bisognerà esplorare di più Selezionare quale parte del corpo curare con un out key ve l'ho spiegato Le torce sugli elmetti ve l'ho spiegato, non le useremo mai poter vendere tutto quanto in blocco quando si gioca da scav a fence il passaggio alla secondaria più rapido la nuova interfaccia le nuove funzionalità di qualità della vita che vi ho appena spiegato l'espansione di Streets of Tarkov nuovo equipaggiamento e armature le armi PKM, SVT, AVT, AK12 pompa tagliato corto e PM il nuovo boss di Streets il primo che si chiamerà Caban la rastrelliera per le armi nell'hideout il ribilanciamento delle quest l'introduzione di un nuovo shader per il vetro e per le luci vari fix tecnici e cambiamento della intelligenza artificiale benissimo altre cose che vediamo sono queste qua in giallo che sono performance ottimizzazione delle performance del client Unity 2021 il nuovo sistema di matchmaking e vari miglioramenti al launcher questi sono segnati in giallo perché non hanno una data definita sono in fase di sviluppo e potrebbero arrivare qui come a dicembre lo stesso vale per la nuova location che è prevista ma ancora non si sa quando verrà rilasciata dunque vi ho detto tutto quello che era importante sapere di questo evento vi dico ancora un'ultima cosa durante questa chiusura del video che potrebbe non servire una mazza a nessuno di voi perché se guardate il video non immediatamente adesso già i codici non funzionano più ma abbiamo i codici che sono ve li scrivo su un altro documento di paint preparateli ve li scrivo grossi grossi abbiamo i codici one click aspettate one click dress up bar malley sun sun scritto con gli zero trambon e pinewood questi sono 5 codici che vi permettono di riscattare all'interno del gioco premi decisamente importanti ve li faccio vedere tutti perché ho già messo tutti i codici boom io direi che sarebbe un peccato lasciarseli scappare quindi se siete ancora in tempo riscattate immediatamente i codici dal sito ufficiale o dal vostro launcher e mettete le mani su questi oggetti vi ho detto tutto vi aspetto al prossimo video più masselli che mai salutazioni grazie a tutti